Il tema della sostenibilità, del rispetto ambientale, anche del benessere animale, meno inquinamento, diventa veramente parte delle preoccupazioni di ogni persona. È stato molto bello e molto interessante e soprattutto mettere insieme i vari aspetti della filiera e potersi confrontare anche su tutte le tematiche relative alla sostenibilità, secondo me è molto importante. Il tema che è emerso verso la fine del dibattito è quello di, almeno dalla mia interpretazione, della capacità di dare effettivamente valore alle attività di lavoro che svolgono tutti gli attori della filiera. Questa è la sfida, il cammino che stiamo tracciando adesso, riuscire a dare il giusto valore economico a quello che è il valore ambientale. Grazie. 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 Grazie.